Signori, benvenuti in una nuova puntata della Desert Craft 4 Allora raga, nella scorsa puntata sinceramente non mi ricordo cosa abbiamo fatto Perché non registro la Desert Craft da, boh, forse due settimane, credo Una cosa del genere, e vale la stessa cosa per le tecniche Purtroppo la Volt mi ha preso tanto tempo Soprattutto perché, raga, dovevo automatizzare Cioè dovevo riprendermi alcune cose Non so neanche se continuerò il pack, raga Perché a me non piacciono molto i pack non difficili Ma dove sei costretto a rifare tutto da capo 1500 volte se perdi una volta Cioè se ho la mod delle tombe non è che non è per niente, diciamo, raga Però vabbè sti cazzi Allora raga, quindi oggi controlliamo insieme cosa abbiamo da fare ancora nelle quest Allora, questo ovviamente si chiude sempre Qua c'è tutta la tinker, qua c'è tutta la cosa La tinker l'abbiamo fatta ma c'è anche da fare tutte le cose relative ai mostri Tipo qua, tipo qua, eccetera eccetera Allora, questo io direi di renderlo completamente completo Diciamo, completamente completo FTB quest No, quest Editing mode No, ho detto editing mode Ehm, facciamo Ehm, facciamo Ehm, allora FTB quest Poi Editing mode Poi True Perfetto Poi andiamo qui E gli diciamo che Questo Complete instantly Thank you Ehm, mentre questo è ancora da completare Qua tanto non abbiamo, se non sbaglio, reward Quindi non ci interessa assolutamente niente Allora, FTB quest Di nuovo Ehm, editing Mod False Perfetto Ok Quindi adesso possiamo riniziare Ehm, da dove abbiamo lasciato Allora, qua abbiamo 231 uova Che non è male Tra l'altro vorrei capire perché Non mi dai Delle piume Va bene Ce ne faremo una ragione Allora, apriamo le quest E andiamo proprio qui dentro Ehm Ora ci serve Le pecore Ci servono le pecore Puoi andare lì a raddoppiarle A farle Cicciottare Ehm Insieme Ci serve della White Wall E della Skystone Vediamo se abbiamo tutte le cose che Ci chiede Quindi Skystone And Skystone Na 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 E ci chiede ovviamente La Lo Ship Spawn Egg Quindi Ship Spawn Egg Vuole la Witchwater Vuole tutte queste cose Però ci vuole anche il Primordial Primordial Oh, non c'ho il Primordial Vediamo come che si faceva Ma non è che tipo L'ho lasciato a fare Primordial Glop Ok, perfetto Al bacio Al bacio Allora Albano Albano Ci serve un bacchettino Poi ci servono Delle uova Ma in realtà ci bastano Solo due Due pecole Farne di più Non avrebbe Molto senso Allora Witchwater Thank you Facciamo Uovo Poi Questo Questo E questo Ok Ship Spawn Egg Poi lo rifacciamo Quindi facciamo Uno Due Tre E quattro Thank you Poi ci prendiamo Delle fence Dovrei avere delle fence La risposta è no Purtroppo Non abbiamo delle fence Questo jetpack è qualcosa di Troppo veloce Fence Posso fare delle fence La risposta è sì Thank you So much Dov'è che mi piazzo le pecole Ma in realtà Potremmo anche Lasciarle all'esterno E poi magari Ti può venire ogni tanto Se ci servono A farle A copiare Oppela Una E due Perfetto Vediamo se abbiamo Della Wid La risposta è sì Bim Bim Vai Accopiatevi Accoppiatevi Dovrei essere in pacifica Ok siamo in pacifica Perfetto Togliamo pure La pacifica E andiamo avanti Con le quest Quindi Dopo la pecora Sempre più Muglia group Ci serve Romaton E la dirt Qui devo uccidere Una pecora Per forza di cose Non che mi vada Molta genio Questa cosa Mi dà un po' fastidio Allora va bene Dirt 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 Non è un problema Thank you E infine Ci serve Una di queste Pecorelle Io direi di prendere Alle Perché quella Diversa Perché così Almeno ci esce Ci escono sempre Le pecore bianche Ok Facciamo così Così Non ho uova Io direi di prenderne Proprio un paio Così almeno Ok perfetto Poi Buttiamo Uno Due Tre E quattro Abbiamo Il pig Spawn Egg Perfetto Solo che Ne abbiamo Solo uno Quindi dovremo Farmare le pecore Fino a che Non avremo Abbastanza Materiali Per fare Anche altri Di quei Cosi Di quei Del bacon E tutto il resto Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Qua facciamo Uscire un bel Porco Porco Porchetto Allora Vediamo se Con il wheat Possiamo far crescere La nostra pecora Molto più Velocemente La risposta è Sì Però non è detto Che si possa Già a copiare Con la Con la pecora A fianco Vediamo Ok Non possiamo Farla crescere Di più Aspettiamo Un attimino Uno E Lei non può Lei non può Peccato Va bene Dovremmo aspettare Nel frattempo Nel frattempo Andiamo a controllare Cosa ci chiede Subito dopo Romato Un robot Per fare Al cavallo Alla fine Ci fa fare La mucca Perchè Ah ok Sì Vabbè Sti cazzi Dobbiamo solo Aspettare Allora Raga Nel frattempo Che ovviamente Quello cresce Dai raga ma qua è come No Questo Assolutamente no La create No Non la voglio fare La La Cioè tipo La skipperemo Tantissimo Nel frattempo Però vorrei vedere Se è possibile Fare Tutti i crafting Che mi portano Ad avere La La fornace Quella Quella particolare Allora Furnace Vediamo Rainbow Rainbow Furnace Si ottiene così Poi ci servono Questi Queste Fornaci qua L'obsidian Furnace Poi Vediamo Ah Tutti I vetri Di tutti i colori Ok La crystal Furnace Possiamo fare Tutto Tranne L'Io Vender Che poi Non so Se Enderpearl Ah no Ne ho Ne ho Ne ho Non so Da dove Le sto Farmando Ah Dalle Endstone Beh certo Ma Stiamo scherzando Allora Furnace Quindi abbiamo Detto Per fare Questo Ci serve Anche Rainbow Core E per fare Non ho Pattern Voglio morire Ok Penso che Non sia Un po' più Veloce Dai Per favore Vediamo Se Si l'ho Fatto Per fare Il vetro Rosso Serve Questo Poi ci Serve Dai Però Furnace Cioè Tutti i colori Devo fare Allora L'arancione Il giallo Ok Proviamo a vedere Cosa ci chiede Per fare La rainbow Furnace Cosa ci manca Il dark glass Per quale motivo Fu Il dark glass Non esatto Testa di Madò Ma porca Miserra Ma Cioè Veramente Ma Allora Crystal Furnace Dov'è Furnace Porca Miseria Sta cosa Non esatto Porca Miseria Guarda Mi ha rovinato Il momento Mi ha rovinato Veramente Il momento Allora Facciamo così Dovrebbe essere Possibile Fare Tutto Oppo La rainbow Furnace Oggi Giuseppe Maria Però Noi Dovevamo Fare Prima Otto Di Queste Me Da Altri Otto Di Queste Ok Rainbow Ma Perché Sto Testa Di Glande Scusa Se Mi ha Fatto La No Scusa Ah Ma Vaffan Spuleco Perché Rainbow Non riusciva A vedermi Praticamente Era bloccato Il coso Posso farla Sì Posso farla Ho Otto Di Questi Lui Mi vede La Quest Mi Da Altri Otto Thank you E poi La Rainbow Furnace Che Comunque L'abbiamo Già Fatta Concludiamo Con Ovviamente I vari Crafting Rainbow Flating Allora Togliamo Questa Thank you Mettiamo Giusto Per Curiosità Quanto Ci metti A cuocermi Uno stack Di Ma Ma Davvero Allora Qua c'è L'importer Ok Qua Così Poi Tu Prendi Gli oggetti Da Sopra Mamma mia Uno stack Così A botta Bim Allora Qua Raga Dobbiamo Assolutamente Mandare Come Come Si Dice Gli stack Upgrade Perché Sennò Risulta Lento Non Ha Senso Non Ho Capito Non Ho Capito Questa Cosa Va Bene Non Importa Non Ti Taglierò Le Fare La Copper Furnace Diciamo Di Craftare Una Fornace Al Volo Ok Buttiamola Pure Dentro Se Non Sbaglio La Silver Voleva La Copper Per L'appunto Ok E Quindi Abbiamo Quasi Concluso Tutto Questo Capitolo Abbiamo L'Augumente Smoking Da Fare Facciamo Direttamente Furnace E Dobbiamo Fare L'Argument Blasting Vediamo Se Riusciamo A Fare Non Posso Fare Ok Posso Fare Così Direttamente La Blast Furnace Ci Serve Poi Ci Serve Un Po Di Carta Infine Possiamo Fare Il Blasting Upgrade Che Praticamente Di Mezza La Diciamo La Cottura Dei Materiali Blasterosi Quindi Vabbè Avendo Già Lo Speed Non E Mi Interessi Più Di Tanto Poi Abbiamo Bisogno Di Uno Smoking Upgrade Queste cose Raga Non le metto In autocrafting Perché Non ha Senso Cioè Non ha Alcun Senso Cosa Che Faremo Una Volta Sola E Poi La Fuel E Fessency Perfetto Quindi Dovremmo Aver Finito Tutto In Questo Capitolo Giusto Se Dovremmo Perfinito Tutto Perfetto Dovrebbe Essere Il Dov'è Based The Rainbow No Ah La Crystal Four No La Crystal Four Ness Mi Sono Dimenticato Ma Veramente Va Bene Tieni Perfetto Ci Dà Un Upgrade Abbastanza Inutile Per Il Resto Non Ci Interessa Niente Ok Quindi Andiamo A buttare Dentro Questa Cosa Qua Facciamo Un altro Paio Di Quest Tipo Quest Della Alloy 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 Il Brass Come Si Tiene Il Brass Ciccio Cicciolino Come Energetic Smelter Induction Smelter Con Lo Zinc E Il Copper Allora Zinc E Copper Mi Fai Prendere Lo So Mi Stai Prendendo Più Il Culo Allora In In Neus Si Induction Smelter Ce Abbiamo Qui Perfetto Dove Dove Una Fonte Energetica Non ce L'ho Vabbè Farò Direttamente Così Quantum Entanglo Porta Ormai Dovremmo Avere Abbastanza Materiali Per Poterlo Fare Facciamo Privati Un Anio Ah Ok Non capivo Che Cosa Che Cazzo Era Allora Energia Off Output Output Facciamo Così Lui dovrebbe Essere Carico E Facciamo Così Oppela Dovremmo Ottenere Il Brassettino Perfetto Che Poi Una Lega Della Come Si Chiama Della Create Molto Molto Utile Poi Abbiamo Black Iron Redstone Eingot Ender Eingot Pig Iron Slime Steel E Poi Tutte Le Leghe Della Thermal Ma Le Leghe Della Thermal In teoria Le dovrei Aver Già Fatte Abbiamo Signalum Enderium Lumium Eh Che Lumino Me Lo Vedi Ah Ok Non Non Gli ho Dato Il Tempo Di Togliere Il Messaggio Ecco Perché Ok Quindi Questo L'abbiamo Già Fatto Ci serve Black Iron Che È Una Tronzata Assurda Da fare Black Iron Facciamo Così Perfetto Poi Vuole Il Redstone Eingot E Lender Eingot Vediamo Come Si Fanno Redstone Eingot Non Penso Sia Complicatissimo Da fare E Poi Guarda La Butto Lì La Butto Lì Lo Sapevo Ok Ender Eingot Quindi Dovremmo Aver Fatto Tutto Anche Qui Ci Manca Solo Il Pig Iron Che Ed è Una Lega Della Tinker Che Vuole Molten Clay Blood E Molten Iron Ok Abbastanza Easy 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 Allora Clay Iron E Poi Sangue Quindi Mi dovrei Buttare Dentro La Thermal Perché c'è Questa Roba Allora L'iron Ce l'abbiamo Già Quindi Se io Tipo Ora Mi buttassi Qua No Pochettino Nel frattempo Buttassi La Clay No Capito Molto Semplicemente No Quattro Lingotte Di Pig Iron Perfetto Quindi Andiamo A Ciapparci Subito Lingot Cast Facciamo Così E Dovremmo Ottenere Il Pig Iron Oh Thank you So Much Che poi È una Lega Abbastanza Forte Se non Sbaglio Della Tinker Pig Iron Per Noi Thank you So Much Questa Roba Le mettiamo Qua Tanto Chi se Ne Frega Poi Ci Serviva Il Slime Steel Lo Slime Steel Che Si Ottiene Sempre Dalla Thermal Che Si Ottiene Sky Slime Molten Iron E Serad Brick Ora Questo Lo Sky Slime Questo Si Ottiene Settacendo Lo Earth Slime Bla 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 E Questo Si Ottiene Mettendo Lo Slime Vabbè Facciamo Così Togliamo Pure Tutti I Tubi Dalla Mechanism Grazie Riprendiamoci Il Seared Casting Basing E Togliamo Pure Tutto Ma C'era La Time In La Bottle Qua Giusto No Non C'era Mamma mia Quanto Tempo Vuoi Che poi Tra l'altro Perché stavo Facendo Quelle Cose Non Mi Ricordo Non Mi Ricordo Assolutamente Vabbè Aspettiamo Un po Raga Libero Tutto Ok Quindi Facciamo Dirt Poi Facciamo Slime Abbiamo Abbastanza Slime Ma Non è Che Non Ne Voglio Sprecare Così Tanto Quindi Facciamo Così Buttiamo Solo Questi Slime Block Poi Mettiamo La Dirt E Queste Vanno Setacciate Con In Nederite Mesh Facciamo Save Vediamo Se Riusciamo Ad No 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 Porca Puttana Ho Sbagliato Ho Sbagliato Vabbè Magari Lo Riusciamo A tenere Subito Vediamo Sì Come No Sti Gran Cazzi Proprio Facciamo Così Sputiamo Qui Dentro Ok Raga Finalmente Finalmente Abbiamo Tenuto Il Sky Root Sapling Perché Con Pot Con Questo E Un bel Drawerino Dovremmo Poter Ottenere Ovviamente Tutte Le cose Che Ci Servono Per E Infatti Otteniamo La Sky Slime Ball E La Sky Root Sapling Quindi Molto 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 Utile Non So Se Fino A Qui Ci Arriva Ah no Vabbè Ce C'è Uno Spazio Qua Quindi Facciamo Così Questo Lo Togliamo Anche Se In Reattà Mi Servirebbe Uno Drawer Da Due Vediamo Se Possiamo Craftarlo Penso Di Si Comunque Non È Poi Vediamo Di No Qui Facciamo Così No È Così Non Ti Sei Bloccato Ok Perfetto Poi Facciamo Così Anzi No Facciamo Prima Che Lo Locchiamo E Poi Facciamo Così Poi Sky Slime Ball E Le Questo Insieme Al Ferro E La Serra De Stone Dovrebbe Potermi Dare Allora No Ferro Ne Ho Qui Perfetto Quanti Blocchi Ho Due Blocchi Vediamo Se Riusciamo A farli Tutti Raga Speriamo Questa È L'ultima Lega Che Ci Manca Per Finire La Missione Così Almeno Ce Lo Leviamo Dalle Scatole Via Nel Frattempo Ti Mando Un Due Tre Quattro Linguotti Di Ferro Uno Due Facciamo Due Di Questi E Due Di Questi Cosa Cosa Che stavi Facendo Scusa Uh Ah Ok Quindi Tipo Ok Perfetto Molten Slime 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 Ok Thank you So Much Ho buttato Dentro Tutto Quello Che Mi Serviva Che Palle Allora Facciamo Seared No Dovrebbe Essere Qui Ok Seared Casting Table E Infine Un bel Ingot Cast Ok Thank you So Much Slime Steel Ingot Perfetto Perfetto Ragazzotti Perfetto Andiamo a vedere Un po Dovremmo aver Fatto Tutto Qua Togliamo Pure Il pin Vediamo A lui A lui A lui Cosa Ci manca Scusa Il Rose gold E il Tinker Bronze Dugo Glass Glass Copper Ma Non Penso Sia Intercambiabile Col Bronzo Normale Perché Sennò Sarebbe Estremamente OP Che Togliamo Pure Gli ultimi Due Lingotti Di Ferro Nel Frattempo Prendiamo Copper E Glass Quindi Facciamo 1 2 3 4 1 2 3 4 Vediamo Poi vuole Il rose gold Rose gold Vediamo Come si fa Il rose gold Sempre Una lega Della tinker Fastidiosissima Gold E copper Quindi facciamo 4 di questi E 4 di questi Vediamo Se abbiamo Tutto Mountain glass Mountain copper Tinker bronze Ok Perfetto Via 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 Subito 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 Ok Tinker bronze Che infine No Lingot cast Ci serve Allora Ingot Poi Togliamo Questo Mettiamo Questo Ho detto Così E poi Così E poi Infine Abbiamo 4 Lingotti Di rose gold Very 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 Good Abbiamo Completato Un altro Un altro Capitolo Del Modpack Allo 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 Alloi Allora Nel frattempo Vi dico Già Le quest Che Praticamente Andremo A Ignorare Ovviamente Con tutto il cuore Ovvero Questa La finiremo Perché ovviamente Ci interessa Questa Non mi interessa Perché sono Tutti Gli animali Diciamo Inutili Se ci servono Li faremo Ma Sinceramente Non me ne può fregare Di meno Questa è la Pamar Vester Quindi andremo Subito Complete Instantly Poi Anche questa Complete Instantly Non è una cosa Che mi interessa Fare questo Questo uguale Complete Instantly E basta Mentre questo Ovviamente È da Completare Ovviamente Poi abbiamo La Thermal L'Industrial Foregoing Che ci manca La Dissolution Chamber E infine Il Simple Machine Frame Vabbè Poi vedremo E poi Vabbè La Power Che ovviamente Si Che ci serve Per fare Ovviamente L'ultima missione A New Mission Qua ovviamente Avremo le cose Altre cose Da fare Interessanti Perfetto Mentre Qua c'erano I Backpack Tutti gli Upgrade Del Backpack Che a me sinceramente Ragà Non me ne può fregare Di meno Anche perché Non mi servono Quindi io direi Proprio questo Facciamo Complete Instantly Poi vabbè Land Bisogna esplorarlo Il Nether Bisogna esplorarlo Questo Lo faremo Extending Reality Anche questo È da fare A New Beginning Invece È ovviamente La cosa Che ci interessa Di più Ragà Io direi che Il Modpack È praticamente Completato Ci mancano Vabbè Tutte queste Sono quest Di appendici Che non ci interessano Fare In realtà Tipo Gli alberi Della Della Come si chiama Della Palm Marvest A me non mi interessano Infatti Ti può fare Proprio Completistantly Così Alla Grande Qua abbiamo Mesh Ed up Che cosa vuoi Non è Ah si è Completato Quindi questa L'abbiamo Completata Quanto Singularity Ci mancano Le singolarità Del legno Ma Tutte quelle Più importanti Le abbiamo Fatto Tutta la Roba Della Power Tutta la Roba Della Industria Flory Growing Che ovviamente Vi schippo Non mi Posso Non me ne Può Non mi Può Interessare Neanche Che cos'è Questo No Assolutamente No Quindi cosa Ci interessa Energy Storage Neanche Gas Storage Fluid Storage Non Sono cose Che mi Interessa Fare Perché Non Sono Così Utili Diciamo Cioè Non Sono Cose Difficili Sono Sempre Le stesse Cose Ma Ti Dice Solo Craft A Questo Oggetto E Basta Quindi Non È Che Ci Chiede Tipo Questa Lo Stra Usata Quindi Non Ha Senso Che Io Vi Faccia Rivedere Tutte Le Quest Tipo Tutte Le Appendici Per Esempio Io Direi Di Completarle Proprio Istantaneamente Ok Così Almeno Ce Completistantly A Tutte Le Appendici Che Tanto Sono Cose Che Alla Fine Sappiamo Già Quindi Le Uniche Cose Che Ci Mancano Da Fare Sono La Standing Reality La A New Beginning Che Ovviamente È Una Cosa Che Dovremmo Fare Per Finire Il Mod Pack E Poi Ovviamente Tutte Le Cose Tutte Le Cose Che Ci Rimangono Da Fare Ragazzotti Per Il Momente Tutto Io sono Mette Ci Vediamo Alla Prossima